hola hermoso hola hermosa che tal? io sono Elvira però tu puoi chiamarmi El e questo video è per te per ti hola mia hermosura oggi in questo video è così relazante sto qui per aiutarti a dormire e a relaver come sempre Asi che ponte auriculares per ascoltare meglio il audio di questo video e empeza mos Primero che nada hermosura mia no te olvides di me gusta a questo video questo mi va aiutare un montone un montone mil grazie e empezamos questa relavazione tan lenta di un cosquillo o sei tan intensa che te coi parati e empiezo con il mic scratching qui e in tempo mentre tempo in sei qua in questo può Quanto me encanta ver videos de sonido con este microfono Y creo que se ve Quanto me encanta ver 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 Estos guantes son objetos favoritos para estos videos de cosquillitas de sonidos intensos Quanto me encanta ver 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 mi accanto, mi accanto, mi accanto, mi accanto, mi accanto, mi accanto, mi accanto mi accanto i colori di questo video sono così intensi, è vero questo è un sonido che a mi mi piace molto però mi ho dato che quasi non lo faccio in dei video così qui sto per te per te, per te, per te uno, dos, tres, cuatro, cinco andiamo a vedere come suona nel microfono ok uno, dos, tres, cuatro, cinco mi accanto come l'audio si escucha tanto palo wow ho, io faccio in grazzi un po' di beh l'audio non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Grazie a tutti. 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 Tuermi, 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 tuermi. Tuermi, 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 tuermi. Grazie a tutti. Y... Tuermi, 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 tuermi... Tuermi, 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 tuermi sei. iscrivetevi al nostro canale!